Il test lo fanno o medici o biologi o infermieri e dopo che hanno effettuato il test il risultato è molto rapido, in un quarto d'ora diamo i risultati via mail a tutti i pazienti. Fino a ieri ne abbiamo fatte 60 al giorno, oggi abbiamo chiamato il secondo medico, quindi da oggi inizieremo a farne circa 100-120 al giorno, quindi considerando che questo test verrà fatto in più di 400 farmacie di Roma e Lazio è sicuramente un servizio di pubblica utilità, e noi appena l'abbiamo saputo siamo corsi, perché abbiamo fatto varie volte le file, i drive-in, certo questa, si sono organizzati anche molto bene devo dire. Credo che sia un ottimo punto d'equilibrio, perché comunque è un costo contenuto, 22 euro, non c'è burocrazia perché non bisogna avere la ricetta, sono venuto 20 minuti fa e in 20 minuti ho avuto la risposta.